Maurizio Fabrizio, chi è la moglie Katia età, lavoro, figli e vita privata. Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di oggi e un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai 1 in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 su Rai 1. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche il musicista Maurizio Fabrizio. Se da un lato però conosciamo quasi tutto della sua carriera, si può dire lo stesso della sua sfera privata. Cerchiamo allora di saperne di più anche sulla figura della sua compagna Katia con questo articolo. Per entrambi la musica, ma non solo, è la loro vita. Sia dal punto di vista professionale che nella vita privata. Katia Asterita è di Napoli ma è nata a Milano. Per lei la musica è stato un colpo di fulmine dalla tenera età dato che racconta, a sei anni già sapeva cosa sarebbe diventata. È il teatro però, così come la recitazione. A stregarla letteralmente. A 19 anni si trasferisce a Roma dove studia acting e canto alla scaletta. Contemporaneamente si laurea all'università in storia critica del cinema. L'artista definisce quest'ultimo come l'arte più rappresentativa dei nostri tempi e che le ha permesso, come del resto per il canto e la recitazione, di venire in contatto con alcuni grandi dello spettacolo. Musica, canto, recitazione. Ma nulla, spiega l'artista, regge il confronto con l'incontro con il compositore Maurizio Fabrizio che poi diventerà suo marito. Lo definisce con 3M, marito, mentore, maestro. Spiega Katia Starita. La coppia oggi vive a Londra ed è più affiatata che mai. Insieme hanno collaborato a tanti progetti. L'artista è presente sui social. Ha un profilo Instagram che però non viene aggiornato da tempo. Lo potete comunque trovare qui. Possiede anche un sito blog personale. Un sito blog. Un sito blog. Un sito blog.